Daniele Lamberti con le percussioni, l'Umpan Point, i Fanka Stick, l'Ego, i Camel To, i Training Corsa, la Verité Vibe Selecta, Masked Ball e ancora la Power Flow Family e la Piva Rock Band. Ah, e i Camel To. Questo è il programma di domani. Può andare. Daniele Lamberti con le percussioni, daniele.